impossibile resistere a questa torta al pistacchio senza cottura si prepara soltanto in cinque minuti ed è davvero fantastica in una ciotola misceliano insieme 250 grammi di mascarpone 250 grammi di panna già zuccherata 100 grammi di latte condensato montiamo bene con una frusta quando sarà ben montato possiamo aggiungere 300 grammi di crema al pistacchio ci serviranno inoltre 300 grammi di savoiardi tagliati a metà li inzuppiamo in 200 grammi circa di latte e caffè rivestiamo un anello o una tortiera da 24 cm facciamo uno strato di crema al pistacchio una manciata di granella di pistacchi ancora savoiardi inzuppati nel latte e caffè e terminiamo con la crema al pistacchio decorare a piacere con crema di pistacchio e granella facile vero? ci vogliono soltanto 5 minuti per prepararla se anche voi adorate il pistacchio lasciate un like a questo video se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e condividete il video con i vostri amici per supportarmi grazie di cuore prima di sformare il dolce lo lasciamo raffreddare un'ora nel congelatore et voilà! torta al pistacchio pronta! facile, veloce, economica ma soprattutto buonissima! io vi ringrazio per aver guardato questo video vi mando un bacione e ci vediamo domani con una nuova videoricetta ciao! 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 ciao!